Cari compatrioti europei, siamo in un momento in cui c'è bisogno di fare di più. Lo chiedono i cittadini, le imprese, le nostre famiglie, i nostri giovani, preoccupati per un futuro incerto perché in tutti i Paesi la crisi e l'emergenza sanitaria distruggeranno milioni di posti di lavoro. In queste settimane quando è intervenuta l'Europa sono arrivate risposte all'altezza della sfida. Pensiamo all'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato che hanno consentito ai nostri Paesi di sviluppare interventi poderosi a sostegno dei loro cittadini e delle imprese. Dove invece non si vuole far intervenire l'Europa la risposta è debole o semplicemente non ci sono risposte. In questo i governi nazionali si caricano di una grande responsabilità perché è adesso che abbiamo bisogno degli strumenti per superare l'emergenza e avviare un piano di ricostruzione. Non vogliamo che gli effetti della crisi ci vedano impreparati e magari ci travolgano. L'Organizzazione Mondiale del Lavoro ieri ha sostenuto che due miliardi e mezzo di persone nel mondo subiranno drammatici effetti negativi. Quanti milioni di persone saranno toccate nei nostri Paesi, in tutta Europa? Noi abbiamo il dovere di proteggere i nostri cittadini, a nord e a sud, a est e a ovest. Finora abbiamo messo in campo misure significative. Il sostegno ai sistemi nazionali per limitare la disoccupazione, migliori condizioni per il ricorso al meccanismo europeo di stabilità per i Paesi che lo vorranno utilizzare, il rifinanziamento della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, indirizzato soprattutto alla protezione delle piccole e medie imprese, e poi il bazooka stanziato dalla Banca Centrale Europea a sostegno della liquidità bancaria per l'acquisto di bond pubblici e privati. Ma oggi naturalmente serve fare di più. Occorre la creazione di un fondo per la ripresa economica, per condividere i costi della ripartenza. Serviranno tanti soldi e il bilancio dell'Unione Europea ha dei limiti e non sarà sufficiente. è necessario uno sforzo ulteriore per cercare nuove vie straordinarie e condivise di finanziamento. Non è solo questione di solidarietà, ma di convenienza, convenienza per tutti, viste le profonde interconnessioni delle economie europee. Il crollo di un Paese avrebbe inevitabilmente conseguenze drammatiche su tutti gli altri. È in questo contesto che la risposta dell'Eurogruppo deve essere commisurata la sfida. I governi e i cittadini devono avere fiducia nella forza dell'Europa, che ci ha accompagnato in 70 anni di pace e di collaborazione. Ed è oggi più che mai che dobbiamo investire nel nostro futuro comune.